Che fine farà il Movimento 5 Stelle, Maurizio Belpietro, secondo te? Io penso che si spaccherà la fine del Movimento 5 Stelle, perché è composto da troppe anime. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che è riuscito a intercettare un cambiamento della società italiana e anche la protesta di una parte dell'elettorato. Ha offerto delle proposte, delle idee, ha intercettato questioni importanti sull'ambiente. Oggi però è composto da gruppi che hanno idee totalmente diverse. Un pezzo vuole andare in una direzione, un pezzo vuole andare all'altra. Un pezzo vuole appoggiare Conte, qualcun altro vuole invece tornare all'alleanza con la Lega. Qualcun altro vorrebbe costruire un rapporto più stabile con il Partito Democratico. Quindi penso che alla fine si romperà. è possibile una scissione, è possibile che a guidarla sia qualcuno, non so, da Alessandro Di Battista, piuttosto che lo stesso Luigi Di Maio che potrebbe decidere, per esempio, di fare un partito più sudista. Ma penso che alla fine non riuscirà a rimanere insieme.